ciao benvenuti a tutti e a tutti sul canale questo sarà un video spacchettamento veramente molto molto interessante come sapete sono stata contattata da un'azienda che è la floral cosmetics per fare una collaborazione iniziare una collaborazione insieme a loro sui prodotti della marexel la marexel sapete sono prodotti che fino a poco tempo fa venivano venduti solamente in farmacia perdonate la godrilli sottofondo che gioca con un tappo e invece adesso possono essere acquistati finalmente anche online sul sito appunto floral cosmetics.com che è un sito italiano di imperia un'azienda appunto di imperia che oltre a vendere altri brand rivende anche la famosissima marexel io dico famosissima perché l'ho già provata anzi un annetto fa avevo già recensito un loro scrub e ancora non avevo nessun contatto di collaborazione vi lascio la scheda qua e anche il video in fondo è un prodotto che mi era piaciuto tantissimo appunto l'oro scrub perché sono prodotti senza parabeni senza oli minerali e quello diciamo che fa forza di questi prodotti è il fatto che al loro interno sono contenuti dei principi attivi marini come l'alga bruna che hanno un sacco di proprietà benefiche e che fanno veramente molto bene la nostra pelle e questa azienda ha deciso di dare un omaggio a tutte voi che deciderete di acquistare un prodotto marexel tramite il link che vi ho già lasciato nel video dove vi presentavo questa collaborazione e che vi lascio anche qua sotto quindi cliccando direttamente in quel link andrete direttamente al sito floral cosmetics nella sezione proprio di marexel e dove andando tramite il link mio appunto avrete quando sarete alla cassa la possibilità di scegliere uno dei tre omaggi che hanno messo appunto in in paio per voi diciamo ecco sono tre prodotti ottimi un siero idratante un altro siero e una crema viso idratante quindi sono assolutamente tre prodotti ottimi potete scegliere quale io vi consiglierei di provare quello che non acquistate così avete un prodotto in più da testare insomma da provare un'azienda veramente che mi piace un sacco qua c'è il pacco non vi faccio vedere l'indirizzo perché ci sono i miei dati e adesso parto ad aprirlo insieme a voi mi hanno inviato tre prodotti mi hanno fatto scegliere tre prodotti e ne ho scelti tre e adesso vi farò vedere quali sono sono stati tra l'altro velocissimi perché dopo che mi hanno contattata il ragazzo che mi ha contattata mi ha fatto scegliere tre prodotti e mi li ha spediti praticamente la stessa giornata e sono arrivati il giorno dopo cioè una velocità incredibile quindi è un'azienda seria perciò questo dimostra anche che se dovete fare acquisti appunto con loro i pacchi hanno veramente una celerità nell'arrivare pazzesca allora questa intanto è già la cura del pacco mi piace un sacco perché tante aziende quando inviano i pacchi inviano la roba un po' senza troppe cure e invece io apprezzo il fatto che l'azienda controlli proprio il pacco ne abbia cura come vedete qua troviamo questi polistiroli a proteggere l'interno del pacco nel frattempo è arrivata anche la Sofì spero che non vi faccia cadere la videocamera allora vado a tirare fuori tutto e poi vi faccio vedere tutto allora stavo guardando che tra l'altro mi hanno messo sono stati gentilissimi una cosa in più e tra l'altro è una delle cose Sofì una delle cose che potrete scegliere nell'omaggio nel regalo quindi sono contentissima perché potrò recensirla e parlarvene ok pacco vuoto quindi sono quattro prodotti che mi hanno inviato e dovevano essere tre quindi gentilissimi ringrazio già Flora Cosmetics per questo allora aspettate qui ok qua c'è tutta la brochure dei prodotti di Marxell già il fatto che comunque vi mandino anche tutta la brochure che vi spiega quello che comunque andate a utilizzare con tutta la spiegazione del prodotto vedete molto dettagliata e anche proprio quello che utilizza la Marxell la sicurezza dei prodotti vi indica veramente tutto e questa è già una cosa che mi piace un sacco il fatto che avete la spiegazione per ogni prodotto e anche la spiegazione di quello che è la Marxell quindi cosa utilizzano le sostanze funzionali dei loro prodotti i controlli che vengono effettuati appunto sui prodotti di Marxell la sicurezza dei prodotti che appunto non contiene allergeni ha un alto profilo di tolerabilità veramente un'azienda veramente curatissima e soprattutto anche Flora Cosmetics che rivende questo marchio già vi fa capire che è un'azienda veramente di alta qualità infatti appunto come vedete Flora Cosmetics è rivenditore ufficiale di Marxell allora vi faccio subito vedere che cosa mi hanno inviato allora mi hanno inviato un latte detergente per tutte le pelli questo è appunto un Cleansing Face Milk ma non ve ne parlo ora perché appunto devo ancora provarlo volevo farvi vedere il packaging quindi andrò a studiarmelo bene e a provarlo soprattutto perché è la cosa a cui tengo di più perché io reputo che oltre a quello che viene scritto e quindi diciamo proprio quello che l'azienda dice di un prodotto sia molto utile ma poi le nostre sensazioni sono la cosa migliore appunto il prodotto è questo il latte detergenti per tutte le pelli tra l'altro ha un 200 ml quindi sicuramente è un prodotto anche che va a durare parecchio leggo qui che va bene anche per le pelli fragili e sensibili cosa ottima per pelli fragili presumibilmente si intendono quelle pelli che sono talmente secche che addirittura tendono quasi un po' a sgridolarsi quindi assolutamente fantastico e ancora più fantastico io apprezzo sono questi packaging a competta dove voi non sprecate il prodotto e soprattutto è un prodotto igienico in questo modo quindi assolutamente fantastico e andrò a provarlo poi mi hanno inviato il tonico viso per tutte le pelli quindi la linea di Marexel è prettamente una linea che va bene per tutte le tipologie di pelli ed è questo appunto il tonico viso e anche questo lo adoro perché appunto ha la pompetta ma ve ne parlerò meglio anche di questo prodotto che appunto ha una lozione tonica ossigenante per tutte le pelli quindi va sicuramente a ristabilire l'ossigenazione del viso poi mi hanno inviato questa crema viso notte purificante 50 ml quindi la crema che andrete a ricevere in omaggio che è quella idratante 24 ore un 50 ml è un bel formato perché come vedete è un bellissimo formato dove il prodotto ce n'è e appunto anche questa andrò a provarla e vi farò poi tutti i dettagli dei prodotti come mi trovo eccetera anche con le caratteristiche proprio tecniche dei prodotti e in più mi hanno inviato che non me l'aspettavo il siero viso nutriente azione intensiva che è questo che va appunto in combinato con la crema non me l'aspettavo e anche questo sarà uno dei prodotti che potrete ricevere in omaggio e guardate è fantastico il packaging anche questo a pompetta è un'azione intensiva multifunzionale quindi assolutamente fantastico mi sembra che sia proprio questo che dovete ricevere in omaggio forse sono altri due tipi aspettate che ve lo dico dal catalogo allora sì no 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 questi qua perché siero idratante esatto direi e siero nutriente ok sono i due poi ci sono altri due tipi di siero uno è il purificante e uno è il siero urto anti età quindi poi comunque voi una volta che andate a effettuare l'ordine potete scegliere quale prendere vi consiglio di prendere comunque prodotti che non sono in omaggio quindi andate a vedere il video della collaborazione dove vi elenco i prodotti in omaggio così potete scegliere quelli diversi o potete anche vederlo direttamente una volta che siete alla cassa perché potete scegliere voi l'omaggio quindi questi sono tutti i prodottini che mi sono arrivati da Marexel e che andremo a testare e vi farò proprio una recensione approfondita perché ci tengo veramente tanto perché è un'azienda secondo me validissima e quindi nulla adesso riproverò per un pochino di tempo e poi ci rivedremo per sapere un attimino le impressioni e i consigli appunto sull'acquisto di questi prodotti e nulla adesso io vi lascio comunque qua nel box informazioni il link diretto all'acquisto dei prodotti di Marexel quindi seguite il link che vi lascio qua sotto per acquistare i prodotti e avere l'omaggio tramite appunto il mio codice se andate direttamente sul sito dovete andare nella sezione Marexel quindi non acquistare altri prodotti perché non avete l'omaggio solo con i prodotti Marexel avete l'omaggio e se non andate tramite il mio link ma andate direttamente nel sito una volta che è arrivata la cassa dovete inserire il codice Marexelila001 per avere comunque l'omaggio quindi avete più opportunità ecco se non arrivate tramite il link potete inserire la cassa il codice proprio Marexelila001 ma qua sotto nel box informazioni vi lascio tutti i dettagli e nulla io veramente non vedo l'ora di testare questi prodotti anzi inizierò proprio da oggi così avrò modo di poterli provare bene e recensirveli non vedo veramente l'ora perché adoro, adoro, adoro e nulla io vi saluto vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale attivate la campanellina per non perdere i prossimi video e mettete sempre un like di supporto fatemi sapere qua sotto nei commenti se già conoscevate questa azienda la Marexel e questi prodotti e se avete intenzione di provarli io veramente ve li consiglio sarei felicissima perché appunto l'opportunità di avere anche un omaggio è sempre una cosa secondo me molto gradita e molto carina e nulla io vi abbraccio a tutti vi mando un mega bacio e come al solito noi ci vedremo alla prossima ciao ciao